Grazie a tutti. Sperimentò ben presso il dolore quando perse ancora bambina tutta la famiglia a causa della peste. Ospite a Milano, dove spesso si recava a pregare sulla tomba di Sant'Ambrogio, ebbe modo di frequentare assiduamente le prediche sulla passione di Cristo, così che la devozione al crocifisso si radicò nell'intimo del suo spirito. Giovanissima si unì al gruppo di donne che conducevano vita eremitica sul Sacromonte di Varese, ma rimasta unica superstite di un'epidemia, fu costretta ad abbandonare il romitaggio. Ristabilita in salute, ritornò sulla Santa Montagna, dove rimase sola, dedita alla contemplazione e alla penitenza, fino a che raggiunse Giuliana, donna semplice e pia, nata nei pressi di Bussarsizio, nel 1427. In seguito, altre discepoli si aggiunsero, attratte dal desiderio della perfezione. Nel 1474, Papa Assisto IV, eresse il monastero del Sacromonte, dove le romite ambrosiane, conservato lo spiritore mitico, si raccolsero in vita comune, sotto la regola di Sant'Agostino, e nell'appartenenza all'anticordine di Sant'Ambrogio ad Nemus, attendendo alla lode di Dio e alla celebrazione dei divini misteri, secondo il rito, venerando della Chiesa milanese. Nel 1476, Caterina fu eletta prima a Badessa. Il 6 aprile dell'anno 1478 moriva, lasciando alle sue figlie spirituali il testamento della carità. Giuliana, rimasta semplice e conversa, dopo un'esistenza arricchita soprattutto dall'umiltà e dall'attenzione al prossimo, specialmente i pellegrini, morì il 15 agosto 1501, sotto lo sguardo della Vergine, verso la quale nutri sempre filiale devozione. Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo, A sete solo di te, l'anima mia come terra deserta, non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lodi, Perché sai il mio Dio, perché sai il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai, all'ombra delle tue ali, Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo, A sete solo di te, l'anima mia come terra deserta, A sete solo di te, l'anima mia come terra deserta, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Questa mattina, ma anche poco fa, il suono festoso e solenne delle campane della nostra chiesa, Ci ha ricordato che per la nostra comunità cristiana, oggi è una grande festa, La festa di Beata Giuliana, che insieme a San Luigi Gonzaga, è la patrona di questa nostra comunità. Non dobbiamo però dimenticare, la ricorderemo questa sera, anche la Beata Caterina, Perché Giuliana e Caterina, insieme, saranno le fondatrici delle Romite Ambrosiane, Le suore che ancora oggi fanno vita di clausura nel monastero del Sacromonte di Varese. Ecco, allora, ci disponiamo a vivere bene questa festa, questa Eucarestia, nella memoria di queste Beate. E anzitutto vogliamo domandare il perdono al Signore e delle nostre mancanze E insieme rinnovare la nostra fiducia nella misericordia e nel perdono del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi fratelli, Di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà, Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, Tu che togli i peccati del mondo, Accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del Padre, Abbi pietà di noi, Perché tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, Con lo Spirito Santo, Nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, Ine Celsis Deo, Gloria, gloria, Ine Celsis Deo, Preghiamo. O Dio che era vivare e da crescere nel mondo, La grazia che salva, Ha ispirato alle Beate Caterina e Giuliana, La fondazione di una famiglia monastica, Che si alimentasse dello spirito e della dottrina, Del nostro Padre Vescovo Sant'Ambrogio, Fa che in questa nostra chiesa fiorisca la fede, E si rinnovi la santità della vita, Per Gesù Cristo, Tuo Figlio nostro, Signore nostro Dio, Che vive regna con Te, Nell'unità dello Spirito Santo, Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi Padre, Leggi nel nome del Signore. Lettura del Cantico dei Cantici. Una voce, L'amato mio, Eccolo, Viene saltando per i monti, Balzando per le colline. L'amato mio, Somiglia a una gazzella, O ad un cerbiatto. Eccolo, Egli sta dietro al nostro muro, Guarda alla finestra, Spia dalle inferiate. Mi sono addormentata, Ma veglia il mio cuore, Un rumore, La voce del mio amato che bussa, Aprimi, Sorella mia, Mia amica, Mia colomba, Io sono del mio amato, E il mio amato è mio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco lo sposo che viene, Andiamo incontro a Cristo Signore. Ecco lo sposo che viene, Andiamo incontro a Cristo Signore. Ecco lo sposo che viene, Andiamo incontro a Cristo Signore. Entra la figlia del Re, E' tutta splendore, Tessuto d'oro è il suo vestito, E' condotta al Re, Imbroccati preziosi. Viene, Andiamo incontro a Cristo Signore. Dietro a lei le vergini, Sue compagne, A te sono presentate, Condotte in gioia ed esultanza, Sono presentate nel palazzo del Re. Ecco lo sposo che viene, Andiamo incontro a Cristo Signore. Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Noi siamo il Tempio del Dio vivente, Come Dio stesso ha detto, Abiterò in mezzo a loro, E con loro camminerò, E sarò il loro Dio, Ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro, E separatevi, dice il Signore. E io vi accoglierò, E sarò per voi un padre, E voi sarete per me figli e figlie, Dice il Signore Onnipotente. In possesso dunque di queste promesse, Carissimi, Purifichiamoci da ogni macchia Della carne e dello spirito, Portando a compimento la santificazione, Nel timore di Dio. Accoglieteci nei vostri cuori. Infatti, vi ho già detto, Che siete nel nostro cuore, Per morire insieme, E insieme vivere. Sono molto franco con voi, E ho molto da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, Per vaso di gioia, In ogni nostra tribolazione. Parola di Dio. Rendiamo, grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risolto, è vivo in mezzo a noi, viene a portare la pace, Vinta è la morte nel nome di Gesù, alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli, il Regno dei Cieli sarà simile a dieci vergini, che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido. Ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si vestarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero, no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre virgini e incominciarono a dire, signore, signore, aprici. Ma egli rispose, in verità io vi dico, non vi conosco. Vigliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Lode a Teo Cristo. Le letture proprie della memoria della Beata Caterina e Giuliana ci hanno fatto ascoltare nel Vangelo questa parabola molto nota delle Dieci Vergini. Di questa parabola potremmo dire moltissime cose, perché è un testo ricco di simbolismo e anche denso di significato. Questa sera però vorrei limitarmi a condividere con voi tre semplici pensieri a partire da tre immagini che troviamo in questa parabola. L'immagine della lampada, l'immagine dell'olio e l'immagine del sonno che sorprende le Dieci Vergini durante la viglia. La prima immagine, l'immagine della lampada. Tutte queste Vergini, tanto quelle definite sagge quanto quelle definite stolte, ricevono ciascuna una lampada, che servirà per accompagnare lo sposo durante il corteo nuziale. La lampada mi sembra un'immagine e un simbolo molto bello della fede. Anche noi abbiamo ricevuto una lampada, anche noi abbiamo ricevuto una luce, proprio come quelle Dieci Vergini. E la lampada e la luce che a noi è stata affidata è la lampada e la luce della fede. La festa che celebriamo oggi, della nostra patrona, Beata Giuliana, insieme a Caterina da Pallanza, vuole davvero risvegliare nel cuore di ciascuno di noi la consapevolezza che la fede è un grande dono. La fede non è una conquista personale, la fede non è qualcosa che ci diamo da soli e la fede non è neanche frutto di doti particolari che possediamo. La fede è un dono che ciascuno di noi è chiamato semplicemente a riconoscere e accogliere nella propria vita. Noi oggi celebriamo la festa della nostra compatrona, Beata Giuliana, e per una comunità cristiana celebrare la festa della propria patrona significa ritornare alle radici della propria fede. Proviamo a pensare, in particolare a questa Eucaristia, a tutte le persone che hanno vissuto e che vivono in questa comunità, in questa nostra parrocchia, a tutte quelle persone che nel corso degli anni, con la loro parola, ma soprattutto con la semplicità della testimonianza della loro vita, ci hanno trasmesso il grande dono della fede. Oggi siamo chiamati proprio a fare memoria di questa lunga catena di nomi e di volti che si sono seguiti ininterrottamente nella vita della nostra comunità, una lunga catena di nomi e di volti che hanno permesso, anche con il sacrificio della loro vita, che il grande dono della fede potesse raggiungere noi oggi. Ecco, in questa Eucaristia siamo chiamati proprio a vivere questa gratitudine e questa riconoscenza particolare. Eucaristia, lo sapete bene, è una parola che deriva dalla lingua greca e che significa letteralmente rendimento di grazie. Perché tutte le volte che noi celebriamo l'Eucaristia ringraziamo per il grande dono della vita di Gesù. Ma in questa Eucaristia, facendo memoria di Beata Giuliana, insieme al dono della vita di Gesù, vogliamo ringraziare anche per il dono della vita di tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle che spesso, anche pagando di persona e mettendoci la faccia, hanno reso possibile che lo straordinario dono della fede potesse arrivare a noi. Noi siamo una comunità cristiana fortunata perché abbiamo alle spalle una ricca, anzi, oserei dire, una ricchissima tradizione di fede. E i segni di questa tradizione di fede, che identifica in modo particolare la vita della nostra comunità, sono spesso visibili. Ecco, Beata Giuliana dice oggi alla nostra comunità, dice oggi a ciascuno di noi, custodite questa tradizione di fede. Non disperdetela, custoditela con gratitudine e con riconoscenza. C'è poi una seconda immagine su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, che è l'immagine dell'olio. Tutte le dieci vergini ricevono le lampade per accompagnare il corteo nuziale dello sposo, però non tutte le vergini si procurano l'olio necessario per alimentare la lampada. La lampada ha bisogno di essere alimentata e indubbiamente l'olio è uno strumento fondamentale. Però Gesù, raccontandoci questa parabola, ci dice che cinque di queste vergini definite sagge si procurarono l'olio indispensabile per alimentare le lampade. Altre cinque, definite stolte, magari le potremmo dire anche un po' superficiali, invece non si preoccupano di procurare quest'olio. E attenzione, l'atteggiamento che le vergini sagge hanno nei confronti delle stolte, quanto le stolte si accorgono che non hanno l'olio, non è un atteggiamento di mancanza di condivisione, perché noi potremmo anche dire che l'olio ce l'avevano, cosa costava loro dare un po' del loro olio a quelle virgini che superficialmente si erano dimenticate di prenderlo. Tra l'altro è anche un po' paradossale che a queste vergini stolte nel cuore della notte venga detto di andare a procurarsi dell'olio. Spido a trovare nel cuore della notte un botteghino aperto che vendeva l'olio per alimentare le lampade. Ecco, le vergini prudenti, di fronte alla richiesta delle stolte, dicono che non possiamo darvelo, ma non è mancanza di condivisione, non è mancanza di carità, è uno sguardo realista, perché queste vergini prudenti dicono se noi condividiamo quest'olio con voi il rischio è che quest'olio non basti né a noi né a voi. L'immagine dell'olio in questa parabola, come del resto quella della lampada, è un'immagine molto bella, perché mi pare che l'olio dita ed esprima la cura per la fede. È vero, la fede è un grande dono che ci è stato trasmesso, che noi abbiamo ricevuto e che abbiamo accolto. Però è anche vero, e Gesù ce lo ricorda molto bene in questa parabola, che la fede va anche custodita. Dobbiamo avere cura del grande dono della fede e dobbiamo anche cercare di accrescere questo dono che è venuto prima di noi con tanta passione e con tanta generosità ha voluto trasmetterci. Allora mi pare che la festa che celebriamo e viviamo oggi sia un evidente richiamo a pensare alla nostra fede. Oggi, beata Giuliana, non solo ci chiede di pensare con grande gratitudine, con grande riconoscenza a tutti coloro che ci hanno trasmesso il grande dono della fede, ma mi pare che questa nostra beata oggi ci chieda anche qualcosa di più, ci dica, prova a fermarti un istante e prova a pensare com'è la tua fede. Quale cura oggi, come singolo e come comunità cristiana, hai della fede che ti è stata donata? La stai custodendo questa fede e stai cercando di accrescere questa fede perché ti permetta di vivere un rapporto sempre più intimo e sempre più profondo con il Signore. C'è un particolare in questa parabola che in un modo un po' drammatico mi colpisce sempre. Quando le vergini stolte arrivano, le porte del banchetto nuziale sono chiuse. Queste vergini bussano, lo sposo si presenta a loro, ma non gli permette di entrare alla festa di notte perché lo sposo dice io non vi conosco. Queste parole di Gesù che risuonano così lapidarie in questa parabola ci devono fare seriamente riflettere. La nostra fede ci sta aiutando a conoscere Gesù perché ci sta introducendo in un rapporto sempre di maggior familiarità, intimità e confidenza con Lui. Oppure viviamo la fede ma Gesù per noi rimane una presenza estranea. Attenzione, perché anche nelle comunità cristiane di solida tradizione di fede è sempre accovacciata dietro la porta la tentazione di vivere la fede come semplice osservanza di norme e di precetti esteriori. vivo la fede perché devo osservare dei precetti che mi sono stati tramandati, mi sono stati consegnati, mi sono stati indicati. Ma se la fede si attiattisce soltanto a questo livello è inevitabile che anche per noi e per la nostra comunità cristiana risuonerà inesorabile il rimprovero del Signore non vi conosco. Perché se la fede è vissuta solo come sterile osservanza di norme e di precetti non ci permette di entrare nel cuore stesso dell'esperienza di fede che è il rapporto personale con il Signore. Gesù, riprendendo le parole del profeta Isaia, dirà questo popolo mi onora con le labbra ma in realtà il suo cuore è lontano da me. E anche nelle nostre comunità cristiane può esserci davvero il rischio di onorare il Signore con le labbra Signore guarda quanto ti voglio bene guarda quanto ci tengo a te non perdo una messa prego tutti i giorni cerco di essere attento al mio fratello ma in realtà il nostro cuore è lontano da lui perché in quella messa in quella preghiera in quella carità noi non incontriamo il Signore. Beata Giuliana è davvero un grande esempio di fede una donna molto semplice molto umile illetterata l'abbiamo ascoltato nella biografia che ci ha introdotta questa eucarestia ma ha saputo vivere il cuore della fede perché per lei credere ha voluto dire giocarsi ogni giorno dentro questo rapporto personale con il Signore che ha amato ha contemplato ha pregato e ha servito questa santa chiede anche alla nostra comunità di convertire il nostro modo di vivere la fede di purificare la nostra fede di preoccuparci meno dell'osservanza di steri di norme e precetti per imparare invece ad amare di più il Signore e a giocarci ogni giorno in un rapporto personale con lui e c'è poi un'ultima immagine l'immagine del sonno che durante la veglia coglie tutte queste vergini lo sposo tardava a venire e a un certo punto tutte queste vergini e sia quelle stolte che quelle sagge si assopiscono penso che abbiamo provato anche noi qualche volta a vivere l'esperienza della veglia e magari mentre siamo lì in veglia sentiamo davvero la pesantezza del sonno che ci soprassale anche senza volerlo gli occhi si chiudono e più forti di noi così è stato per quelle vergini che si sono assopite si sono addormentate e improvvisamente si sono ridestate quando hanno sentito il grido che diceva ecco lo sposo andatevi incontro vedete questo sonno che coglie queste vergini mi fa pensare un po' a una certa stantezza e oggi le nostre comunità rischiano di vivere nel loro modo di celebrare la fede forse anche le nostre comunità cristiane oggi nel vivere la fede rischiano di essere un po' assopite di essere un po' come quelle virgini anche quelle comunità cristiane che sono sostenite da una solida tradizione di vivere proviamo a pensare anche alla nostra comunità non sto puntando il dito contro nessuno eh però forse anche la nostra comunità oggi è un po' stanta un po' fiacca un po' provata nel suo modo di vivere la fede si sta forse un po' adagiando il rischio è di vivere la fede per abitudine perché si è sempre fatto così quante volte ritorno a questa frase eh no questa cosa dobbiamo assolutamente farla perché si è sempre fatto così nell'Apocalisse l'angelo dice a una delle sette chiese un'espressione molto forte io sto per vomitarti poi te non sei né caldo né freddo ma sei pietido oggi le nostre comunità cristiane rischiano di essere pietide nel loro modo di vivere la fede stanca e sapete qual è il segno più evidente che una comunità è stanca nel vivere la sua fede la mancanza della non quella gioia che deviamo per forza stantarci sul viso a 360 denti perché tutti devono per forza vedere che noi siamo contenti ma quella gioia intima che nasce nel profondo del cuore perché abbiamo davvero incontrato lui il Signore risorto allora provocatoriamente io dico quale gioia testimoniano oggi le nostre comunità cristiane chi ci vede nel nostro modo di vivere oggi la fede può dire davvero questo è un cristiano gioioso perché ha fatto esperienza nella sua vita del Signore risorto a volte noi cristiani nel vivere la nostra fede lasciamo trasparire una cristiana che fa paura e fa paura e magari non ce ne accorgiamo neanche comunità cristiana adulta questa cosa la dico soprattutto a voi i nostri giovani quando vi guardano nel vostro modo di vivere di testimoniare la fede possono dire davvero davanti dei cristiani adulti gioiosi possono dirlo lasciamoci provocare scuotere da queste domande certo sono domande forti ma dobbiamo avere anche il coraggio di dirci quale fede sto testimoniando quale volto di fede gli altri vedono in me la beata giuliana ha sempre vissuto con grande passione con grande tenacia con grande determinazione la sua fede anche se è stata provata nella vita ed è stata molto provata questa donna non ha mai perso la gioia quella gioia grande che lei sapeva nascere dall'incontro con il signore risorto e anche se povera materialmente non possedeva niente sapeva in realtà di possedere tutto perché possedeva la cosa più preziosa il suo signore allora mi pare che beata giuliana questa sera voglia dare un forte scossone alla nostra comunità cristiana per dirci svegliatevi svegliatevi dal torpore svegliatevi dalla fidrizia svegliatevi dalla stanchezza siate una comunità cristiana dinamica una comunità cristiana gioiosa una comunità cristiana che con entusiasmo si spende e si vive e vive per Dio e per gli altri questo ci chiede oggi la nostra beata di vincere la tentazione di una fede che si rinchiude in tanti modi di pensare ormai vecchi ormai spirili per percorrere i sentieri della vita i sentieri del mondo sostenuti dalla gioia che davvero il Signore è risorto ed è sempre presente con noi sia lodato sempre sia lodato per l'anima oi per l'anima Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, spirito santo, amore. Dona la libertà, dona la santità, fai dell'umanità il tuo canto di lote. Ed ora alle Beate Caterina e Giuliana del Sacromonte di Varese vogliamo rivolgere le nostre intenzioni di preghiera. Ascoltaci Padre Buono. Ascoltaci Padre Buono. Per la Chiesa, perché possa sempre annunciare la vita nuova in Cristo, tuo Figlio, speranza per ogni uomo, ti preghiamo. Ascoltaci Padre Buono. Per coloro che soffrono, per la perdita di una persona cara, perché si sentano confortati dalla promessa della vita eterna, ti preghiamo. Ascoltaci Padre Buono. Per noi tutti, perché ci sia dato di passare dalla morte alla vita, in ascolto e in obbedienza alla tua parola, ti preghiamo. Ascoltaci Padre Buono. E mi sembra bello e significativo in questa Eucarestia ricordare tutti i depunti della nostra comunità, tutti quegli uomini e le donne che nel corso degli anni hanno davvero segnato con la loro presenza il volto di questa nostra Chiesa. Vogliamo ricordare anche tutti i nostri familiari, i nostri cari, che il Signore ha già chiamato vicino a sé nella gioia del Paradiso. Vogliamo ricordare in particolare i depunti di questi ultimi mesi, di queste settimane, in particolare quelli che sono morti per il coronavirus. Tutti affidiamo alla misericordia, alla bontà del Signore, che davvero il Signore li accolga e di ricompensi del bene che hanno fatto nella loro vita. Ascoltaci Padre Buono e vogliamo anche pensare a tutti i sacerdoti che nel corso degli anni hanno accompagnato, hanno guidato questa comunità. Vogliamo davvero pregare per loro, che davvero il Signore continua a illuminarli con la forza del suo spirito e che gli aiuta a conformare sempre di più il loro cuore a quello di Cristo, Buon Pastore, preghiamo. Ascoltaci Padre Buono. Accoglio Dio la supplica della tua famiglia. Per i meriti delle Beate Virgini Caterina e Giuliana, donaci di servirti con fede pura, con interiore dedizione e con obbedienza sincera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai, ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usarle se lo puoi, per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. Accetto Padre le offerte che ti presenta questa tua chiesa radunata nella memoria delle Beate Caterina e Giuliana e in virtù del sacrificio di salvezza, donaci di poterle assiduamente imitare nell'amore della contemplazione e nella fraterna comunione di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta glorificarti, oh Padre di misericordia infinita. Tu che soccorri i poveri ed esalti gli umili, elargisci oggi la gioia di celebrare la memoria delle tue romite Caterina e Giuliana che rifulsero nella chiesa per il fuoco della carità e lo splendore dell'innocenza. A te consacrarono liete la loro vita virginale, legandosi con vincoli della fedeltà e dell'amore e cercarono da Gesù, salvatore e unico sposo, come splendido dono nuziale, di essere rese pure dal suo sangue e di condividere la sua passione. A loro e a tutte le creature felici del cielo ci associamo a cantare, oh Padre, la tua lode, unendoci all'inno perenne. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Santo, 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 dell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli Veramente santo sei il tuo padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo di Gesù Cristo tuo figlio è nostro Signore Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere i santifici l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome e il sacrificio perfetto Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo tuo figlio è nostro Signore che ci ha comandato di celebrare questi misteri Nella notte in cui fu tradito egli prese il pane ti rese grazie con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi dopo la cena allo stesso modo prese il calice ti rese grazie con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me mistero della fede annunciamo la tua morte Signore proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza gloriosamente risorto e acceso al cielo nell'attesa della sua venuta ti offriamo padre il rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio dona la pienezza dello spirito santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti con la beata Maria virgine madre di Dio con San Giuseppe suo sposo i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri Sant'Ambrogio, San Luigi le beate Caterina e Giuliana e tutti i santi i nostri intercessori presso di te per questo sacrificio di riconciliazione dona padre pace e salvezza al mondo intero conferma nella fede e nell'amore la tua chiesa pellegrina sulla terra il tuo serve nostro Papa Francesco il nostro vescovo Mario il collegio episcopale tutto il clere e il popolo che tu hai redento ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza ricongiunge a te padre misericordioso tutti i tuoi figli ovunque dispersi accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli qui spezia ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà non avrà più fame qui vive la tua chiesa intorno a te dove ognuno troverà la sua vera casa Le Beate Caterina e Giuliana hanno sempre vissuto mettendo tutta la loro esistenza nelle mani di Dio consapevoli che Dio è un padre buono che ha una cura amorevole per ciascuno dei suoi figli ecco anche noi vogliamo rivolgerci a Dio invocandolo con il nome di Padre Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male liberaci o Signore da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo tu hai il regno tu hai la potenza e la gloria nei secoli Signore Gesù Cristo che edete i tuoi apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà tu che vivi e regni nei secoli dei secoli la pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi e con il tuo spirito Beati gli invitati alla cena del Signore ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo O Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato Chi ci segue da casa certamente non può vivere in questo momento la comunione eucaristica ma viviamo la comunione spirituale desideriamo che Gesù vivo entri realmente nel nostro cuore rimanga sempre con noi e ci accompagni ogni giorno nel cammino della vita Gesù mio io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia poiché ora non posso riceverti sacramentalmente vieni almeno spiritualmente nel mio cuore come è già venuto io ti abbraccio e tutto mi unisco a te non permettere che mi abbia mai a separare da te eterno Padre io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa e per i bisogni della Santa Chiesa Tu sei la prima stella del mattino Tu sei la nostra grande nostalgia tu sei il cielo chiaro dopo la paura dopo la paura di esserci perduti e tornerà la vita in questo mare soffierà soffierà il vento forte della vita soffierà sulle vele e le gonfierà di te soffierà soffierà il vento forte della vita soffierà sulle vele e le gonfierà di te tu sei l'unico volto della pace tu sei speranza nelle nostre mani tu sei il vento nuovo sulle nostre ali sulle nostre ali soffierà la vita e confierà le vele per questo mare soffierà soffierà il vento forte della vita soffierà sulle vele e le gonfierà di te soffierà soffierà il vento forte della vita soffierà sulle vele e le gonfierà di te soffierà soffierà la vita soffierà preghiamo preghiamo Dio Padre nostro che ci è rinnovato con il corpo e il sangue del Redentore fa che la nostra vita e le nostre opere manifestino una carità vira e operosa sull'esempio delle Beate Vergini Caterina e Giuliana che furono testimoni eloquenti della passione e dell'amore di Cristo e in tutto vogliono conformarsi a Lui che vive regna nei secoli dei secoli Amén Prima di concludere questa Eucaristia con la supplica alla Beata Giuliana e la benedizione a tutta la comunità parrocchiale con la reliquia della nostra Beata, anche a nome di Don Giovanni auguro che davvero questa nostra festa, la festa di questa nostra patrona, ci renda davvero una comunità capace di lasciarsi guidare sui sentieri dello Spirito per diventare ogni giorno sempre di più chiesa del Risorto. Don Giovanni mi ha anche raccomandato, mandandomi un messaggio oggi, di dirvi che Don Attilio Anzidino, che fino a qualche anno fa penso sia stato il parroco di Madonna Regina, fa di cuore alla nostra comunità gli auguri per la sua festa. Patronale, bello che questo sacerdote si sia ricordato anche di noi. Ringrazio di cuore i giovani che hanno reso possibile questa diretta streaming, chi ha letto, chi ha cantato rendendo particolarmente solenne questa celebrazione e chi come ad ogni celebrazione si prende cura della sacrestia e dispone tutto perché la messa possa essere celebrata in un modo non solo bello ma anche di intuso. Adesso viviamo la supplica alla beata e poi la benedizione con la redizia. Beata Giuliana, vergine e donna di Dio, il Signore ha guardato alla tua umiltà e ti ha chiamata ad essere una sposa fedele, in una vita consacrata alla preghiera e alla penitenza, alla lode di Dio e all'intercessione per gli uomini. Anche noi oggi ci affidiamo alla tua carità e guardiamo a te come una regola di vita, come una festa sorgente a cui rivolgere la nostra sete di santità. Concedi al Signore per noi un cuore umile e docile alla sua volontà, un amore ardente alla sua passione redentrice, uno spirito forte e fedele anche nelle avversità, una devozione sincera alla beata Virgine Maria. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Diamo questa benedizione a conclusione di questa Eucaristia proprio a tutta la nostra comunità parrocchiale. Invochiamo proprio l'intercessione della nostra beata Patrona. Questa benedizione la invochiamo in particolare sui bambini, sui ragazzi, sugli adolescenti, sui giovani, sulle famiglie, sui malati, sugli anziani, su coloro che assistono i malati e gli anziani. Vogliamo anche invocare questa benedizione su coloro che vivono in particolare in questo tempo il dramma della solitudine, anche il dramma della rassegnazione e della disperazione. Vogliamo invocare questa benedizione su quelle famiglie della nostra comunità che in questi tempi hanno perso il lavoro e fanno fatica a tirare avanti, a campare, perché gli mancano le principali forme di sostegno economico. Vogliamo pensare anche a tutti i nostri decunti che fanno parte della Chiesa del Cielo e ci ricordano la grande meta e il grande orizzonte di spenso di tutta la nostra esistenza e di questo nostro pendegrinaggio terreno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kiri eleison, kiri eleison, kiri eleison. Per i meriti e le preghiere di Beata Giuliana, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nome di Cristo. E buona festa di Beata Giuliana a tutti. Grazie. Con l'amore tuo che mi guida, oh Signore, ovunque io vado, resta accanto a me. Io ti prego, stammi vicino, ogni passo del mio cammino, ogni notte e ogni mattino, resta accanto a me. Resta accanto a me.